Ciao a tutti, allora questo è l'outfit di oggi, è l'8 marzo, è la donna, mi sto uscendo con le mie amiche e io volevo farvi vedere come lo respira. Il trucco lo trovate su Instagram, vi lascio giù il link alla foto perché è troppo difficile per vedere il trucco adesso. Quindi ho questo cappottino che è così, che è di Danny Rose che avete visto l'anno scorso in un video, poi va bene la borsetta con la raccolla perché sono troppo scomoda e poi sono scollata, però mi manca la giacca e questo, così. Le scappe sono così, sono alte però è una zeppa e poi appunto riprende l'arancione del cappotto. Questo bracciale qui, che è quello che avete visto nei regali di Natale. Le unghie, uno smatto di Catrice di cui non ricordo il nome, vi scrivo un fumetto da qualche parte. E gli orecchini, si vedono gli orecchini? Devo avvicinare? Sono questi qui, il trucco non lo so se lo vedete. E niente, questo era appunto un video minuscolo perché da tanto che non faccio video outfit e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie e saluto per la risposta.